Grazie per la linea. In redazione con noi abbiamo la sindaca di Borgo Novo, Valtidone, Monica Pattelli, anche presidente della provincia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti voi, grazie. Parliamo di questo appuntamento, sempre più vicino a noi, molto importante per la comunità e per i visitatori, i turisti, la Fiera dell'Angelo 2023. Quali le particolarità di questa edizione? Allora, questa edizione sarà caratterizzata da un ritorno alla normalità perché finalmente avremo una fiera nel suo pieno dello splendore, diciamo così, avremo la rassegna degli animali nel fossato della Rocca che l'anno scorso non abbiamo potuto organizzare causa Covid per evitare sovraffollamenti e avremo sicuramente tanti Luna Park presenti qui in paese perché avremo tre piazze con oltre 50 attrazioni, e la grande novità è il momento dell'inaugurazione perché quest'anno taglieremo il nastro insieme al neoeletto sindaco dei ragazzi che è stato proprio eletto qualche settimana fa. Chissà che emozione. Esatto, chissà che emozione perché abbiamo deciso appunto di far tagliare il nastro da questo ragazzo, eletto lo scorso 27 marzo, perché comunque è l'evento storico del nostro paese, quello chiaramente più sentito da noi borgonovesi, più desiderato dai nostri ragazzi, e quindi far capire ai nostri ragazzi che alla fine il nostro comune ha anche questo grande onore di organizzare questa fiera, penso sia bello. Parliamo di questo ritorno, cioè concentriamoci un po' di più perché piace tantissimo ai più piccoli, ma anche ai bimbi un pochettino più cresciuti come noi, questa rassegna degli animali da cortile. Di cosa si tratta? Esatto, nella giornata di lunedì, quindi nella sola giornata di lunedì, il Fossato della Rocca si animerà della presenza di animali, grazie ad una collaborazione con l'Associazione Allevatori della nostra regione Emilia-Romagna, e quest'anno avremo un concorso Indovina il peso del Torello, con poi una consegna di riconoscimenti nel tardo pomeriggio, avremo inoltre la presenza di ragazzi che si esiberanno in uno spettacolo con cavalli, avremo una mostra di rettili nell'auditorium, e quindi sappiamo bene che il fossato con gli animali è sempre stata una grande attrazione della nostra fiera, e quindi quest'anno abbiamo deciso di riportarlo nel pieno. C'è questo bel profumo di ritorno finalmente alla normalità al 100%, e anche il numero degli ambulanti che sarà presente lo testimonia? Assolutamente perché avremo oltre 50 attrazioni di Luna Park, oltre 300 bancarelle, sì 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 assolutamente avremo un serpentone di bancarelle sul nostro viale, in via Roma, ripeto tre piazze animate da Luna Park, il fossato il lunedì, avremo una rassegna enogastronomica nell'area basket e avremo mercatini biologici e di piccolo artigianato nei giardinetti delle scuole. Insomma una Pasqua molto sentita come dicevo prima, non solo dalla comunità ma dai tanti visitatori che verranno sicuramente a trovarvi a Borgonovo. Grazie alla sindaca Monica Patelli per essere stata insieme a noi, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie a voi